Il calcio a Napoli è religione. Proprio non credo. Non è uno sport, è un movimento sociale. Io sono venuto a Napoli per fare qualcosa che rimanesse nel cuore dei napoletani. Che faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto. Ah sì? Vediamo se ce la vai. Le cose si conquistano. L'organizzazione, la disciplina. Non si fa le cose singolarmente, si fa le cose come squadra. Improvvisamente è successo il miracolo. I pianeti si sono allineati. Non apprezzo vincere qui. Per questo chi vince qui viene ricordato per sempre. Non è nessuno che discuterà più di Napoli. Nessuno, in realtà. Noi. Sono… Noi. Grazie a tutti.